Eeeh ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video, io sono Polarwind e questa è la Skyblock Plus Registro questo episodio non proprio di seguito a quello prima, però ho fatto tipo qualcosa off camera perché altrimenti questa serie era veramente difficile portarla normalmente perché bisogna farmare molto infatti bisogna prendere legno, fare sapling, cose del genere, quindi vi ho invitato questa parte che passa un camion di Fengo Casami, io ho aperto la finestra perché sono un deficiente e questa è quello che ho fatto off camera, come vedete è un pochino diversa l'isola, ho messo, no forse avevo messo qui forse era un blocco più indietro, non me lo ricordo, ho messo qui la cesta, ho scavato un pezzo di terra e laggo, poi ho continuato questo pezzo qua e l'ho fatto finire qua con un sapling, un altro sapling e un altro sapling questo qui non era nemmeno cresciuto, dopo lo prendo e ho un piccolo problema, cioè la fame come vedete ho veramente tanta fame, come fare fame? Io ho cercato molti modi ho fatto il cobblestone generator, come ho detto ho due piccoli mezzi distrutti perché ho scavato come fosse nato e laggo nel frattempo, io adesso vado a distruggere quel meccanismo di redstone che secondo me è la causa del lag, non so perché ma secondo me quel meccanismo di redstone è la causa del lag non è stained clay, perché quel meccanismo lì fa andare avanti e indietro quel coso lì io avrei paura che secondo me è questo, aspetta un attimo, tanto so come si fa ok dovrebbe aver smesso di funzionare, no? ok e non dovrei più laggare? no infatti non sto più laggando ok, comunque ok scherzavo, laggo comunque, comunque queste qui le butto via perché non me le sono cittate praticamente e ho scoperto, vabbè, lì c'è la... lì c'è il coso del cibo, sto laggando anche di fps, questo è lo strano e di connessione pure, non so nemmeno in un server, ho scoperto che con un coin ti danno direttamente i seed e quindi ho detto come fare i seed? allora non posso farlo con le farm perché non ho appunto la farm non posso farlo con i mob ostili perché non ho il mob spawner e non posso farlo con i mob utili, cioè nel senso quelli pacifici perché non ho una farm appunto come fare? allora io sono andato in bank perché pensavo fossero tipo delle cose belle tipo quei plugin che ti dà tipo una chest in più e ho scoperto che uno stack di cobblestone ti dà 3 coin in poche parole uno stack di cobblestone sono un diamante perché c'è è veramente tanto e un coin sono 16 pezzi di grano sì pezzi di grano adesso, semi di grano quindi adesso, visto che credo che non ce la farei mai a sopravvivere metto tutto dentro la chest e utilizzo la tecnica che i più antichi ninja hanno insegnato hanno i bellissimi boh, quello che volete, hanno i lupi perché io, il mio animale preferito è un lupo anche se non vi interessa è la tecnica speciale che è quella del triplo salto carpiato bello, cioè, beh, molto bello ok, adesso muoio, vedete? no, 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 non farò deficiente ok, riprendiamo le nostre cose visto che sono un genio E come vedete ho preso un po' di cobblestone Adesso io non volevo andare molto avanti off camera Come già prendere i coin Perché mi sentivo un pochino a disagio Prendere i coin senza che voi lo sappiate E appunto Scaverò un casino ancora Di cobblestone Fino ad arrivare vorrei arrivare a due stack Più o meno scusate se io Smetto di giocare ma io Fa gesticolo un giorno quando avrò Soldi per comprarmi una webcam La comprerò giuro lo metto Mani in testa anche se non le vedete Giuro lo faccio giuro sull'angelo Per chi segue shadow one E adesso leggo cobblestone Io leggo cobblestone E ci vediamo fra venti ore Giusto un appunto Mi si è appena rotto il piccone Che bello Yeee Bene ragazzi non ho assolutamente voglia di scavare Un altro stack perché è difficile Ho scavato undici pezzi E me ne sono distrutti un casino Infatti ho distrutto questo qui Adesso un kaffetto ma appena un altro Di stompy coax E adesso prendiamo i nostri primi 3 coin Bam 3 coin Mi sa che ho disattivato il movimento del gioco Però aspettate un attimo Ora che ci penso si Adesso Ok dovresti sentirlo voi adesso E non lo sento perché non ho preso le cuffie Perché lo lascio dal piano di sotto Perché non ho voglia Perché sono un pigro Io sono un pigro E andarla a cercare E quindi di conseguenza Prendiamo dei semi Perché è la logica no 16 semi Boom E adesso Abbiamo un minimo di C Ancora Ma questo no Questa qua è una farm di Ok Muorici Così almeno non mi fai blaggare Perché forse eri tu che mi facete Ricordo Comunque adesso stavo dicendo No 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 Perché Faccio una piccola Zappetta Bello Zappare E No Aspettate Ora che ci penso No aspetta Io ne ho un altro Signo a un altro Di pezzo di ghiaccio Quindi Volendo Posso fare Questo 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 E Questo Ok Bene Ce l'ho fatta Quindi adesso Visto che non ho Questa grandissima Mamma mia Quanta legna Che devo prendere Visto che non ho Assolutamente voglia No in realtà Adesso devo scavare Per farmi una Sazio tempo Mamma Ok ci rivediamo Altre dieci ore Ok ragazzi Ce l'ho fatta Ci ho messo un pochino No in realtà Ci ho messo tipo Cinque minuti Perché Non ce l'ho Non volevo mettere Fare una cosa giga Enormica Ho fatto un tre Un tre per tre Di Di appunto Di semi Così almeno Avrò una piccola farm Che mi permette Di farmare Coin Molto velocemente E adesso La rifinirò Tipo Abbastanza bene Off camera Perché Comunque Non mi piace Moltissimo Io adesso Sono abbastanza Sofisticato Di gusti Di minecraft Anche se Non so un minimo Costruire come Scoprirete Se mi seguirete Io penso che Per questo episodio Possa essere tutto Anche se non l'abbiamo Fatto molto Nel prossimo episodio Sicuramente Faremo un Mob spawner Perché mi serve Assolutamente Un Un mob spawner Per le ossa Così posso Farmare nettamente Più velocemente Magari Off camera Farò anche Un pochino Meglio Questo Questo orto Lo farò diventare Più Più Bello Magari Anche più Grande Come crescono veloci Le piante Non pensavo E magari Un config La map Non credo Che sia così Veloce Di solito Le cose Perché Mizzega Hanno quasi Finito Mizzega Oh Ma ho momenti Prima della fine Del video Cresce del tutto Vabbè dai Io vi ringrazio Come al solito Di essere Io vi ringrazio Come al solito Della visione Di questo video E vi invito A lasciare un like E di iscrivervi Nel canale Se volete Continuare Di questa serie E volete Sempre restare Aggiornati Sul mio conto Vi ricordo Che in descrizione Trovate sempre Con cosa registro Lo schermo L'acquisizione Schermo E il mio Editor di video E in più Le mail Nel caso Mi vogliate Contattare Adesso Mi sono fatto Skype Così Adesso potete Vi lascerò Addirittura Il contatto Skype Così facendo Voi potete Contattarmi E possiamo Fare una collaborazione Io e voi Un qualsiasi Una qualsiasi Persona Anche non big Cioè nel senso Cento iscritti Vanno più che bene E Non esitate a chiedere Perché io accetto Praticamente chiunque Basta che facciamo Qualche video Insieme Su qualche server Di minecraft Ho visto delle particelle Di fumo Mi sono cagato sotto E niente Vi rimando al prossimo video Bella Mi sono cagato Mi sono cagato